80 destra 5 più 30 sinistra 5 più e destra 5 meno apre 80 destra 3 meno e destra 3 50 destra 3 in sinistra 5 più 80 destra 5 80 alla casa attenzione tornate sinistra chiude 80 destra 5 più per sinistra 6 80 sinistra 6 80 destra 4 50 dosso dritto vai 100 alla casa gialla destra 3 meno in sinistra 2 apre e vai 50 dosso e dosso dritto vai 80 destra 6 meno e destra 6 50 sinistra 6 meno e dosso in destra 6 centro vista al palo sinistra 6 meno 100 destra 5 meno 50 destra 5 per sinistra 3 più vai 100 al doppio palo dosso in 50 sinistri per destra 2 più in cambio vai 150 destra 6 meno 150 sinistra 3 più e destra 3 meno 100 attenzione destra 3 in cambio con dosso vai 100 sinistra 5 meno per destra 4 meno lunga chiude in sinistra 4 meno lunga 50 destra 4 per sinistra 4 più in destra 4 più apre 100 al cassonetto sinistra 5 più 80 destra 6 meno lunga e destra 5 più 100 e destra 5 più